Sara, buongiorno! Ciao Angela, che bei fiori! So che belli, io li muro con tanto amore, a me piacciono tantissimo e vengono ancora più suggestivo quest'angolo. Vero, eh? Puoi partecipare al concorso Balconi Fioriti. E come bisogna fare? Io ho un concorso organizzato dalla Proloco Fiscianese per i balconi fioriti più belli e colorati del comune di Fisciano. È molto semplice partecipare, basta inviare foto e video del tuo balcone alla Proloco di Fisciano e verrà scelto il balcone più bello. Sulla pagina Facebook della Proloco puoi trovare tutto il regolamento. Quindi io farò una bella foto al mio balcone Fiorito e invierò la foto. Va bene, grazie dell'informazione! E poi è l'ora di portare il tuo balcone! Va bene, grazie Sara! Ciao, buona giornata! Buona giornata a te! Ciao! 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 Ciao!